Nel pomeriggio del 20 novembre 2019 due boati frantumarono la routine quotidiana degli abitanti di Barcellona Pozzo di Gotto, poi il fumo denso ed ineluttabile. Tutto lasciava presagire la gravità della situazione che di lì a poco sconvolse un'intera comunità. Le esplosioni arrivavano proprio dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta costa, ubicata tra contrada cavalieri e femmina morta. Subito si attivano i soccorsi ma la situazione appare già compromessa. Purtroppo ci sono cinque vittime, trapella il primo nome, è quello di Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare della ditta. Il figlio invece è uno dei feriti, ha tentato di salvare la vita alla madre e ne uscirà gravemente ustionato. Le altre vittime sono operai di una ditta che stava ultimando dei lavori all'interno della fabbrica. Si tratta di Giovanni Testaverda di 34 anni che ha lasciato la moglie e due figli, destinate ad affrontare già in tenerissima età un dolore troppo grande. Era diventato papà da due mesi invece fortunato porcino di 31 anni. Adesso illumina dal cielo i passi della sua piccola. Aveva il progetto di costruirsi una famiglia invece il tunisino Mohamed Tanai di 39 anni che si era sposato da poco. La più giovane delle vittime, Vito Mazzeo di 23 anni, aveva una gran voglia di lavorare. Sua madre ha atteso per ore fuori dai cancelli della fabbrica, purtroppo in vano. La cronaca di quest'oggi ci fa rivivere quei tragici momenti di dolore e di angoscia per delle vite spezzate troppo presto. Una sciagura che non bisogna dimenticare.